Salve amici del centro meteo italiano. Possibile peggioramento di stampo invernale che trova ancora con ferme da parte degli ultimi aggiornamenti. Vediamo allora la tendenza. Alta pressione che garantirà tempo per lo più stabile durante il prossimo weekend, anche se da domenica avremo molta nuvolosità in transito e qualche debole pioggia, specie sul nord-ovest e isole maggiori. Instabilità con piogge e acquazzoni sparsi nella prima parte della prossima settimana, quando una goccia fredda in quota si porterà verso la penisola iberica. Clima comunque non particolarmente freddo, con temperature per lo più in linea con le medie del periodo. Sul finire della settimana invece sia il modello GFS che l'europeo ECMWF mostrano ancora una discesa fredda verso l'Europa, con anticiclone di blocco posizionato sull'Atlantico. Ovviamente presto per scendere nei dettagli, ma entro la fine di novembre non si può escludere un primo peggioramento meteo di stampo invernale, con temperature in calo e neve a bassa quota. Trattandosi però di tendenze, seguite come sempre tutti i prossimi aggiornamenti, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.